Finalmente ci siamo di nuovo, Bitcoin riprende la via del rialzo, Ethereum un nuovo ATH, aggiornamento continuo dei suoi ATH, per quanto riguarda il mercato delle cripto si prospetta un novembre veramente interessante, anche novembre e anche la prima parte di dicembre faremo una serie di video di aggiornamento stra importanti proprio in questo particolare momento, perché ragazzi novembre e dicembre potremmo vedere veramente cose interessanti, ben ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, andiamo a aggiornare tutto quello che è la situazione ciclica dei mercati delle criptovalute Bitcoin, ETH e il terzo grafico quello della Total Market Cap dove vi farò vedere che cosa potrebbe succedere da qui alle prossime settimane soprattutto intorno a novembre e dicembre e quali sono i livelli di target che potremmo vedere anche sulla Total Market Cap, quindi dei livelli che secondo me dobbiamo tenere fortemente monitorati, lo stesso grafico poi lo svilupperemo nei prossimi video in questo mese proprio perché è un grafico importantissimo perché potrebbe darci anche l'idea generale della parte finale di questo rialzo dove stiamo andando a finire, prima di andare avanti e vedere tutti i grafici che ho già qui davanti a me sul mio schermo ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto non perdetevi questi video perché saranno veramente una bomba, io ho con me il mio Bitcoin d'oro già pronto, ve lo mostro qui davanti, perché viene storto, lo metto così, allora faccio con questo foto, lo vedo io al contrario, va bene ragazzi allora ho già qui quello che è la zona legata al grafico di Bitcoin, andiamo a fare subito analisi ciclica, vi faccio vedere qual è il livello in questo momento stra importante di Bitcoin che sta tenendo, sta tenendo sotto cappato Bitcoin, se rompe questo livello di resistenza secondo me si va su. Allora la scorsa settimana è stata veramente complicatissima da un punto di vista di gestione dei cicli, è veramente complicato andare a districarci, alla fine abbiamo indicato quella che era secondo me la previsione più probabile, cioè quella del ciclo binario, il mercato sta facendo quella strada ma è stato ETH a darci il la su questa cosa. Ho pubblicato uno short dove parlavo di questa cosa sul canale YouTube, ragazzi fate attenzione agli short che sono molto importanti, sono 30 secondi di picche d'oro, mi piace molto che apprezzate questo nuovo modo di comunicare che YouTube ci ha dato. Allora passiamo subito al livello di Bitcoin per capire quello che è la situazione ciclica, allora non sapevamo ancora se il mercato stesse facendo dei cicli internari e la questione in effetti era veramente complicata da analizzare perché c'erano queste possibilità. Però ragazzi al momento io quello che valuto anche prendendo spunto dalla regina delle crypto quindi da ETH è che il mercato abbia fatto la close del ciclo mensile lungo 37 giorni ma ci sta che sia lungo perché è un ciclo rialzista forte molto forte e quindi va benissimo allungare i tempi di un altro ciclo settimanale quindi di 7 giorni più rispetto ai 30 giorni. Quindi secondo me in maniera abbastanza chiara io direi che dal 28 di ottobre siamo in un nuovo ciclo mensile e questo ciclo mensile tecnicamente dovrebbe andare a concludersi intorno al 20-25 di novembre. Un classico anche una volta ancora una volta per quanto riguarda un ciclo che probabilmente potrebbe essere allungato se sarà rialzista ma quali sono i livelli in questo momento rilevanti? Allora il primo è esattamente questo qui ragazzi cioè i 64.000 ed è Bitcoin proprio sui 64.000 in tempo reale in questo momento che sta tentando di rompere questo livello. Se lo fa e secondo me lo farà ce ne andiamo direttamente al massimo storico in questo punto qui. Massimo storico a 66.000 non quello in ATH dell'Esciato che è 67 ancora una volta coincidente con il mio famosissimo target price per agosto mai raggiunto dal mercato. Ancora una volta tiene quel livello ma secondo me novembre è la volta buona perché può essere eliminato. In Academy disvelo una cosa ve la dico direttamente abbiamo dei livelli target per il mese di novembre che potrebbero essere raggiunti che sono molto molto alti ragazzi perché tra con l'utilizzo di una strategia che si basa sulla volettilità che stiamo seguendo in Academy da mesi nel mese di ottobre non abbiamo operato perché non siamo riusciti a entrare con quella strategia e a questo caso sì siamo entrati sui primi livelli perché ovviamente ragazzi ho sistemato un pochettino delle robe per adattarlo al mercato a questo super pump che sta facendo e i livelli di target price sono badate bene fra 80 e 90 mila dollari. Lo so che sembra così eccessivo sembra molto plan B diciamo così però la questione è fattibile da un punto di vista statistico. Magari analizzeremo questa cosa vi mostro anche qualcosina in più nei prossimi video. Intanto tornando alla questione ciclica se qui è iniziato come quasi sicuramente insomma ragazzi un nuovo ciclo mensile stiamo a quattro giorni quindi la fase di metà dove potremmo andare a reagire è ancora molto lontana quindi ci vuole il 10. Tutta questa fase tecnicamente potrebbe essere rialzista quindi i livelli secondo me in questo momento di resistenza per bitcoin sono solo ed esclusivamente non di tempo quindi non ciclici ma a livello di resistenza di analisi tecnica per cui abbiamo 64 in close daily se li rompe e li conferma oggi secondo me accelera vicino i 66-67 mila dollari molto facilmente dopodiché ragazzi magari tentenna un pochino ma secondo me gli dà caputo anche a quegli a TH lì. Spero di non sbagliarmi chiaramente siamo tutti noi fiduciosi in questa cosa vi faccio vedere anche la mia operazione di trading vi spiego anche quello che sto facendo di breve periodo dopodiché passiamo a TH e soprattutto questo grafico ragazzi mi raccomando non perdetevi questo grafico fra pochissimi minuti perché è molto importante vi faccio vedere una cosa molto importante allora questa è la mia operazione su prime x bt chi di voi non avesse ancora utilizzato prime x bt vi lascio il link in descrizione con un bonus fee del 25% vi consiglio di utilizzarlo mi piace perché mi fa tradare bitcoin con bitcoin quindi nelle fasi di app è forte è molto forte perché si guadagna praticamente due volte c'è una questione legata al funding che secondo me è anche interessante perché non pagate funding se chiudete l'operazione prima della mezzanotte utc insomma tante altre cose io l'utilizzo da più di un anno ormai lo sanno tutti vi lascio il link in descrizione mi date una mano con i ref questa è la mia operazione di prime sono rientrato qui perché ragazzi vedete qui che è un balance negativo perché io sto usando un reward da un sacco di tempo praticamente che mi hanno dato per operare e prelevo solo i profitti ma questo è veramente la prima volta che perdo in realtà proprio perché oltre allo short di copertura del famoso mese che fu che tutti voi magari vi ricordate c'è stato anche la problematica legata al fatto che in questa settimana molte operazioni di brevissimo sono andate in perdita proprio per la difficoltà del mercato quindi questa operazione all'onere di andare a recuperare proprio questa perdita qui che ovviamente ragazzi ha già recuperato un terzo vedete semplicemente con una giornata positiva quindi dovremmo riuscirci vedremo la seguiremo insieme magari vediamo come va questa cosa qui quindi la seguiremo insieme questa è una operazione di breve periodo che sto facendo con il broker prime andiamo a eth vi faccio vedere la ciclica di eth è stato proprio la regina indicarci la strada secondo me più probabile sulla questione ciclica infatti questo minimo che è stato fatto proprio qui vedete ragazzi il 28 di novembre e poi il boom nuovo ed è definito anche in mezzo alle due medie queste sono due medie cicliche 21 e 11 medie mobili semplici che da un punto di vista ciclico mi indicano la chiusura dei cicli in maniera molto precisa soprattutto nell'ambito delle cripto funzionano benissimo quindi da qui in poi secondo me nuovo ciclo per quanto riguarda eth eth è in price discovery quindi non ha nessuna resistenza da matti a sé questa è una cosa molto bella non ha nessuna resistenza perciò può andare un po' ovunque ragazzi quindi seguite il trend non fate short selling contro mercato perché vi viene in mente follie del genere se lo volete fare provatelo ma poi mettete gli stop vari ma io disconsiglio minimamente di andare contro trend lo sapete trend is your friend ed è fondamentale ricordarselo soprattutto quando si va a operare in questi mercati allora i livelli di resistenza secondo me probabili per quanto riguarda eth sono i 5000 dollari insieme ai 45 45 livello ragazzi me l'ho dimenticato di metterlo ed è proprio questo attuale è un buon livello anche questo 45 un buon livello di resistenza il prossimo è 5000 e poi si sale sopra vicino a questa aria aria che potrebbe assolutamente coincidere con la famosa aria di massimo storico per i mercati e dove poi magari sopra ragazzi avremo un po' di problematiche ma magari le vedremo queste cose nei prossimi video soprattutto diamo al mercato un modo di esprimersi diamo al mercato la capacità di poterci dare delle indicazioni diverse e non cerchiamo di prevedere il futuro che ovviamente non si può ma solo scenari ragazzi ok ricordatevi non diamo consigli finanziari si prevedono solo scenari passiamo al super grafico che vi ho promesso andiamo ad analizzare la total market cap grafico molto importante soprattutto da vedere ad inizio mese perché ci dà anche un riferimento ciclico su dove potremmo arrivare in termini di periodo a fare massimi storici un po' rilevanti cioè massimi storici che potrebbero decretare la fine del bull market di questo ciclo dell'halving di bitcoin quindi veramente importantissimi andiamoli ad analizzare allora il grafico della total market cap ha iniziato intanto lo guardiamo solo su time frame settimanale e lo guardiamo solo ed esclusivamente per il medio lungo periodo non andiamo a fare analisi mensile su questo grafico perché non ha nessun senso nel attuale ciclo dell'halving dopo il minimo di dicembre del 2018 che fu toccato insomma il minimo del precedente ciclo da qui è iniziato un nuovo ciclo che ha avuto due annuali e il primo chiuso a marzo 2020 con la pandemia con il minimo della pandemia che vedete scusate ragazzi ok mi sono perso la penna che vedete qui poi il secondo è stato chiuso esattamente quest'anno quando io vi facevo la testa d'acqua indicandovi la famosa close del ciclo annuale che doveva arrivare molti di voi se la ricordano perché vi ho stressato per mesi con questa questione allora questi sono stati due cicli annuali questa è una struttura tutta intera e sta facendo il terzo ciclo annuale il terzo ciclo annuale è quello del massimo storico di questa di questa fase e tecnicamente potrebbe avvenire tra pochissime settimane perché ragazzi perché quest'aria che vi ho disegnato tra novembre e dicembre coincide alla perfezione con l'aria temporale di massimo del precedente ciclo dell'halving cioè di questo qui ragazzi ok quindi il precedente ciclo che è stato composto da tre cicli annuali e questo qui per intenderci ha raggiunto il suo picco esattamente in questa zona qui temporale quindi quando saremo verso novembre dicembre oh mio dio che ho fatto ok quando saremo verso novembre dicembre del 2020 21 ragazzi quindi la total market cap potrebbe indicare che stiamo andando verso un massimo storico dal quale poi potremmo avere anche una fase ribassista prolungata ragazzi purtroppo e poi dovremmo andare a vedere se questa cosa sarà così quindi il famoso mercato orso che potrà durare io non sono del tutto convinto che questo ciclo dell'halving sarà come il precedente secondo me è diverso dal precedente ma ne parleremo nei prossimi video perché è una questione più di idee generali di opinioni allegati a una serie di fattori che di di altro allora andiamo a fare anche le analisi di quelli che sono i target della total market cap in questo momento siamo in massimo storico intorno a 2.7 trillion i livelli di resistenza che la total market cap deve affrontare in questo momento sono intanto 2.7 questo è il primo livello di resistenza che come vedete coincide sia con i 60 i 4 e 5 di eth sia con i 64 di bitcoin perché ovviamente eth e bitcoin hanno insieme circa il 60 65 per cento della total market cap quindi bastano due coin per fare muovere interamente questo grafico ragazzi della total market cap ok allora questa è il livello di 2.7 è un livello di resistenza successivamente si può andare a 3 trillion e poi se il mercato dovesse andare in super pump 3.5 trilion di market cap ovviamente il tutto sarebbe possibile solo e solo se bitcoin va a raggiungere quelli che sono i livelli astronomici di cui abbiamo già parlato prima di cui sta parlando prambi cioè over 80 mila dollari possibile una cosa del genere cosa succederebbe ad esempio ad eth se bitcoin va effettivamente a raggiungere il livello di over 80 mila lo dovremmo desumere dal grafico che avevamo tra l'altro anche promesso il grafico di eth contro bitcoin però ragazzi ieri poi mi ero dimenticato che ieri era festa e quindi non sono riuscito a fare il video del lunedì quindi in settimana analizzeremo anche questo grafico qui perché è un grafico molto importante in quanto è il rapporto ethereum bitcoin ci darà anche risposta su che livelli potrebbe raggiungere ethereum se effettivamente bitcoin riuscirà a portarsi sui livelli astronomici rompendo i suoi at h secondo me ne vedremo delle belle è un bel periodo per l'ecritto ci siamo siamo focalizzati siamo al top che cosa ne pensate voi quali sono i vostri target price soprattutto per btc ovviamente plan b lì la gioca la giocatura questo mese di ottobre non ci ha beccato perché il mercato ha chiuso a intorno ai 61 ma lui aveva detto 63 siamo lì quindi ancora secondo me ci sta dentro con le sue previsioni ma soprattutto mi interessa secondo voi eth dove può arrivare vi ho fatto vedere la total market cap fatemi sapere anche voi cosa ne pensate magari qualcuno di voi si aspettava il target di senza senso insomma i soliti soprattutto con la total market cap non è così ragazzi ve l'ho già fatto vedere lo scorso anno quando vi dicevo che bitcoin a 67 era già ben quotato avete visto cosa è successo quest'anno quindi ritorniamo piedi per terra e soprattutto strategia perché in questo mercato si vince con le strategie bene fatemi sapere anche voi target price e th che dite dove andiamo a finire ciao a tutti e buon inizio settimana che si gioia inizio a ieri ciao